Parliamo con Roberto Gritti del Crema, una bella partita da parte vostra, tante occasioni, vittoria meritata. Sì, per noi era importante dare continuità alle ultime prestazioni, anche in classifica era importante tre punti. L'unico rammarico non averla chiusa prima sarei stati fino alla fine un po' diciamo così, sai magari l'episodio, poi ti può complicare una partita comunque dominata dall'inizio alla fine. Questo è stato l'unico problema di oggi magari, avete avuto tante occasioni da gol, tantissime forse, ne avete fatta solo una? Sì, purtroppo è un problema che abbiamo da diverse partite, creiamo e facciamo fatica a buttarla dentro e poi spesso accadeva che avversari al primo tiro la buttavano dentro. Però è importante dare continuità ai risultati e adesso aspettiamo domenica prossima che è determinante, giochiamo al Voltini, con il Valle e Camonica e dobbiamo portare a casa tre punti. Avete vinto tanti scontri diretti, oggi un altro di quelli, queste sono le partite che contano e anche la prossima? Sì, poi adesso le partite sono sempre meno e i punti valgono doppio, è importante, adesso mancano sei partite alla fine e vincere adesso i tre punti valgono doppio perché le partite sono sempre meno e poi anche nei play-out la classifica è determinante. Se dovessimo giocare in play-out la classifica è determinante ti permette anche con due pareggi di poterti salvare se la squadra che affronti la trovi dietro in classifica a fine dell'anno. La salvezza diretta? È troppo. Non lo so, adesso vediamo il partito in partito, poi ci vedremo alla fine.